Ok ragazzi e ragazze, vai sono pimpante purtroppo, ma devo annunciare che questo qui il gameplay numero 18 di Spider-Man ed è il penultimo gameplay, si avete capito bene, questo è il penultimo gameplay di The Amazing Spider-Man 2 su Xbox 360, quindi buona visione a tutti come sempre e a tutte, grazie che mi seguite, continuate a seguire il mio canale che ne arriveranno dei giochi ve l'ho promesso, quest'estate non vado in ferie, ecco ve lo dico subito, quindi partiamo con il gameplay 18 di The Amazing Spider-Man 2 su Xbox 360 e buon divertimento a tutti e a tutte, ciao! Ok ragazzi e ragazze, vai andiamo con il gameplay numero 18 di The Amazing Spider-Man 2 che ormai credo che, credo scusate, che sia il finale, il finale, vediamo su, vediamo insieme vediamo insieme vediamo insieme vediamo insieme vediamo insieme chissà cosa nascondono credo che stessero facendo qualcosa di molto sbagliato vediamo insieme vediamo insieme non mi stai prendendo sul serio o sei davvero così lento sei il gameplay finale oppure è una finta che sarà il gameplay finale questo ok la corazza è tolta però è muerto, è muerto ok e tu che ti credi che farei una bella fine la corrente elettrica nell'acqua devo stare in alto veramente credi che ti va bene? ah vabbè, non è che a me è andata meglio oh vabbè, grande Spidey Spidey Korsky bella Spidey, bella riprendi energia che ti serve, ti serve il ragno no, mi si sono bloccati i lanciaragnatele mi serve sì maia due tre tu puoi chiamarla ne sono tre il meglio del mio lavoro maremma maia i lanciaragnatele odiano l'elettricità ne sono tre ragazzi ne sono tre mi pagano lanciaragnatele disattivate vabbè andiamo qui, andiamo qui mi riprendo un po' di energia se riesco pare di sì pare che sono riuscito vabbè no allora questo qui sarà corazza quindi può andare a farsi fottere no? ragazzi è dura qui ragazzi è dura che cos'è? eh secondo me sarà l'ultimo gameplay ve lo dico ve lo dico il ragno tutti con me eh no vabbè io no centrale ci sono alleati in zona? eh il ragno tutti con me è una sega saluti ai coloromantici vai spy vai togli le corazze lo sai che la ragnatela ti dona un sacco? togli le corazze anche questi fenomeni una volta dovuto le corazze non si deve più nessuno dici? dici? te lo dici tu? ci vediamo che il ragionamento è la di sponte no? boom eh vai eh vai vai alla grande vai spidey ok ora ora si entra qui attrezzatura elettrica trattature max dillon no no ho la sensazione che ci sia qualcosa dietro quei rotanti allora energia trovo un modo di uscire andiamo qui sopra ragazzi che dite? cos'è lì? non ho visto non ho visto oh ecco qua ecco qua ho visto bene ho visto bene ha visto bene il vostro bradenship grande ecco qua disfugge questo cioè o almeno disattivalo è esploso è esploso ragazzi ragazzi io qui dico sempre che è l'ultimo gameplay ma vi dico la verità che non so quanti ne mancano a questo punto perché esce sempre qualcosa di nuovo si allunga troppo poi il gameplay enchi ok distruggiamo anche questo grande spidey grande spidey non voglio un elettroshock mi conviene evitare quella qua ragazzi o spiderman lo amo lo amo eh bene così quanti ne vuoi distruggere qualcosa che non sai fare ok grande grande eh 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 e dove arriveremo ora dove arriveremo con spidey vediamo vediamo eccolo ottimo perché non è mai progetto cuccioli o progetto cioccolato eh eh o progetto caramello eh beh eh eh o progetto cornetto alcita che spidey che cazzate spari eh bene così devo fermare casa di prima che la situazione peggiori ok allora segui le tracce di casa di è una parola è una parola ragazzi qui è una parola è un parolone ora qui segui le tracce vabbè eh ragazzi non vorrei che per il combattimento finale combattimento finale ci vuole un altro gameplay perché credevo che la cosa era più corta ragazzi allora mi sentite no dicevo che mi sono assenza al mattino perché sembrava che squillava il cellulare non temere l'oscurità falla entrare diventerai come me ho trovato me stesso spiderman andiamo di qua allora anche tu puoi farlo ti faccio vedere come non so cosa vuol dire far parte di qualcosa di grande lo capirai anche tu cosa faccio qui presto ci saranno due temi di persone ok quelle come me e quelle morte da che parte vuoi stare e ora ah ok ora lo vedi da che parte voglio stare imbecille e quello cos'è ora lo vedi si sembra venuto direttamente da un altro pianeta ma hai visto un altro pianeta ok bello una grande famiglia spiderman tante bocche da spavare eh si le spavrò una famiglia di matti la cosa più disgustosa che abbia mai visto il mio amico ha fame vuole un bel ragnone da mangiare ha fame non vuoi il mio ma ne ho un altro oh 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 le voci della testa concordano devi morire devo fermare casa di prima che la situazione peggiori ragazzi ha detto che devo morire ha detto che devo morire è fantastico questo qui ha detto che devo morire ha del fantastico il ragazzo è anche molta fantasia diciamo eh a volte ragazzi dico ragazzi mi sentite perché va via l'audio dalle cuffie non prendetemi per pazzo ma è così oh siamo al combattimento finale casa di per te è finita uno solo come te basta e avanza non sono cletus casa di non più ora sono veramente me stesso sono carnage ahia ma voi che dite ragazzi questo qua è la fine la mia fortuna mi muteranno perché fumo in pubblico ma cosa devo fare a questo povero povero piccolo ragno non sei ancora pronto per la verità vero non ti ho sparato una ragnatela in bocca per non farti soffocare ma mi stai facendo cambiare idea vedi tu credi di scherzare ma so che non lo vuoi ammettere a te stesso quando ho ucciso quei criminali eri felice mi eri grato o mi sbaglio no io non è mai troppo tardi per capire ti dirò tutto quello che vuoi sapere tu dici che cerchi risposte nella morte cosa volevi fare quando ti ho fermato volvi altre come te una famiglia per diffondere il messaggio la verità che caos e morte sono sbagliato puoi creare una famiglia perché non ne hai mai avuta una non cercavi la morte cercavi la vita che non hai mai avuto chi è che non vede la verità adesso hai detto che uccidi per capire la morte cosa stai cercando di capire il significato la verità i segreti che rivela sul nostro conto ma che abbiamo paura di scoprire posso dirteli io la morte è parte della vita capita a volte con un motivo a volte senza sprechi il tuo tempo se cerchi una risposta cosmica nella morte il significato è nella vita e tu hai sprecato la tua cosa ti fa pensare che io sia simile a te volevi la stessa cosa che volevo io eliminare per sempre quei criminali è vero non volevo ammetterlo ma mentirei se ti dicessi che non l'ho pensato lo sapevo ma è umano la rabbia la vendetta non è sbagliato provare certe emozioni hai sbagliato a secondarle ti spiego che differenza c'è fra me e te Spider-Man io mi accetto per quello che sono non dovresti e tu invece sì e perché non lo fai scusa Cletus ho realizzato che parlare con un killer psicopatico non mi darà le risposte che cerco so cosa te le darà la morte oh mio ok ragazzi ok so che può sembrare da bastardi interrompere il gameplay qui però ragazzi devo farlo devo farlo devo interrompere qui il gameplay perché perché se poi magari perdo sbaglio qualcosa almeno mi fa ricominciare qui dal mostro quindi scusatemi dai quindi facciamo così ragazzi diciottesima parte del gameplay di The Amazing Spider-Man concluso qui ci vedremo con la parte finale credo dopo di questa ciao a tutti dal vostro DiabloTex vai ci siamo Sonic non cominciare perché sono già abbastanza incazzatello che sta finendo il gameplay di The Amazing Spider-Man 2 ecco parlare un attimo con Sonic ragazzi quindi e niente si conclude il gameplay numero 18 di The Amazing Spider-Man 2 su Xbox 360 è il penultimo gameplay sono abbastanza nervosetto non so se devo dare la colpa a Sonic piccolo Sonic grande vabbè non diamo la colpa a nessuno dei due perché tanto il gioco è corto sta per finire e basta quindi passiamo subito ai saluti finali del gameplay numero 18 di The Amazing Spider-Man 2 salutiamo subito allora J3T che sarebbe un nuovo iscritto Davide Schiavone Alessandro Scirpoli Mattia Tacca io lo chiamo Mattia Tacchettasso perché ti tacco capito vabbè scherzo Mattia Tacca vai bene così poi c'è Lino Dagos Eden Omega che è un mio grandissimo amico grandissimo però ma grande Mastodondico perché dice di essere un passo oltre il divano fortuna che non bevi alcolici se no dice oltre il divino il vino capito vabbè lasciamo perdere così quindi ciao Eden Omega poi c'è Ludovico Scorza e Riccardo Ragno perché ragazzi Riccardo Ragno l'ultima volta mi ha detto se non mi saluti le ragnatele te ne vai a piedi non puoi volare non puoi salvare i civili nessuno ecco che vedi c'è un civile che non va quindi ragazzi gameplay 18 di The Amazing Spider-Man 2 ho scherzato un po' va bene così concluso ci sentiamo per il prossimo video game play ciao a tutti al vostro DiabloTex Drag & Roll